I finanziari del gruppo investigazione criminalità organizzata, gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli con il coordinamento della direzione di strutturali antimafia parte europea hanno dato esecuzione tra le province di Napoli e Caserta a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 31 soggetti, 22 in carcere e 9 gli arresti domiciliari gravemente indiziati di appartenere o di aver favorito il clan Amato Pagano. Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, questi i reati a vario titolo contestati agli indagati. Il clan Amato Pagano nato dalla scissione del clan di Lauro avrebbe ininterrottamente continuato ad avvalersi della propria forza di intimidazione commettendo una pluralità di reati, omicidi, estorsioni, spazio di sostanti stupefacenti, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, riciclaggio per mantenere il controllo del territorio nei comuni di Melito, Mugnano e Arzano, del mercato all'ingrosso della cocaina nell'intera area nord di Napoli e delle estorsioni nei comuni di Melito, Mugnano, Casavatore e Arzano. Grazie ad un'organizzazione capillare, infatti, il clan sarebbe riuscito a gestire una complessa filiera di narcotraffico, soprattutto attraverso il controllo delle diverse piazze di spaccio operanti nei territori ricadenti sotto la sua egita criminale. Le risultanze investigative restituirebbero una struttura criminale di tipo verticistico. Le contestuali indagini svolte dagli specialisti del GICO avrebbero portato alla luce l'esistenza di una forma di controllo presorché totale del territorio melitese da parte del clan grazie anche alla diretta partecipazione alle attività criminali del presidente dell'ICAST, prima ASCOM, di Melito, associazione rappresentativa di plurime categorie commerciali, industriali e artigianali, operanti nella città che, proprio in virtù di tale ruolo, era nelle condizioni di favorire il clan attraverso i rapporti con commercianti e imprenditori. Infatti, proprio presso la sede dell'associazione si sarebbero tenuti dei summit di camorra finalizzati a stabilire le strategie criminali da adottare. Gli indagati sarebbero coinvolti in una massiccia e capillare attività estorsiva posta in essere a tappeto nei confronti di operatori commerciali melitesi, circa 500 negozi ogni anno, oltre che nel diretto interesse del clan e nella gestione dei remunerativi servizi di onoranza ai funebri attraverso la selezione di specifiche ditte con le quali entrava in quota, consentendo loro di operare di fatto i regime di monopolio. Da segnalare una particolare forma di estorsione che si aggiungeva rispetto a quella classica, posta in essere attraverso l'imposizione delle tre rate annuali, coincidenti con le festività di Natale, Pasqua e Ferragosto, camuffata dall'acquisto in effetti obbligato di gadget natalizi. Dalle indagini sarebbe infatti emerso che nella proposta rivolta ai commercianti vittime, questi potevano ricevere a fronte della somma estorta una fattura per scaricare il costo dell'illecita devoluzione e questo sarebbe servito, secondo gli indagati, a far accettare più facilmente l'imposizione. La fattura sarebbe stata infatti emessa da una ditta compiacente che una volta ottenuto il pagamento tramite bonifico avrebbe provveduto a restituire la somma in contante al clan, trattenendo per sé un importo corrispondente all'IVA. Nel corso delle inchieste è anche emerso il coinvolgimento di due appartenenti alla Polizia Municipale di Melito di Napoli che avrebbero contribuito ad ampliare il controllo economico del territorio da parte del soldarizio criminale. Infatti i due pubblici ufficiali avrebbero eseguito accessi presso attività commerciali o cantieri edili contestando delle irregolarità amministrative alle quali non seguiva alcuna verbalizzazione in quanto, previo compenso per ogni intervento portato a termine, i due suggerivano alle vittime la possibilità di rivolgersi ai rappresentanti del clan per evitare conseguenze pregiudizievoli, ampliando così il novero dei soggetti periodicamente storti. Sequestrata anche la sede dell'Aicast di Melito di Napoli, considerate il quartiere generale di gran parte dei membri del clan e luogo di riunione, di concentrazione, di deliberazioni criminali ed incontro con le vittime designate dalle estorsioni, nonché tra Campania, Molise ed Emilia Romagna, 18 aziende, 5 delle quali operanti nel settore delle onoranze funebri, 12 tra fabbricati e terreni, 34 autoveicoli, denaro su oltre 300 rapporti finanziari per un controvalore di circa 25 milioni di euro. Dei soggetti destinatari di misura catolare, 3 sono beneficiari di reddito di cittadinanza, mentre ulteriori 5 risultano inseriti in nuclei familiari precettori del beneficio e pertanto verranno segnalati all'Inps per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.